1.039.425. Tante sono state le biciclette che dall'8 aprile al 31 agosto di quest'anno sono state registrate dai contabici posizionati sulle piste ciclabili di Pescara, nello specifico quelle del lungomare Matteotti, lungomare Cristoforo Colombo, viale Muzzi e viale Valle Roveto. Per Luigi Alboremascia, assessore alla mobilità del Comune di Pescara, si tratta di numeri importanti nell'ottica di un ulteriore incremento della mobilità sostenibile in città. È un risultato piacevolmente sorprendente, è il frutto di un lavoro faticoso di questi due anni, innanzitutto da parte dei tecnici, dei collaboratori e poi anche un risultato politico ragguardevole perché abbiamo intrapreso in questo scorcio di amministrazione delle politiche in linea con quelle suggerite dall'Unione Europea a favore di una mobilità sostenibile e alternativa che possa anche migliorare la qualità della vita delle nostre città e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Anche nella direzione di ottenere una maggiore salubrità della nostra aria con risultati che devono essere in linea con quelli dettati dall'Unione Europea entro l'anno 2030. Avere la possibilità attraverso questi contabici finanziati interamente dal Ministero dell'Ambiente, avere un monitoraggio costante di questi dati diventa anche un elemento di partenza per gli ulteriori slanci, gli ulteriori interventi che andranno fatti nei prossimi anni proprio in vista dell'appuntamento del 2030. A proposito di altri interventi cosa si deve fare ancora? Dobbiamo lavorare molto sulla sensibilizzazione perché quello che bisogna raggiungere è forse il traguardo più difficile, è un cambio culturale. C'è ancora una sacca di ostilità alla mobilità sostenibile, ci sono i sostenitori, ci sono coloro che praticano quotidianamente questo tipo di spostamento, ma ci sono tante resistenze ancora che vanno vinte. Dall'altra parte ci sono interventi infrastrutturali che andranno programmati nei prossimi anni e che saranno sostenuti da risorse enormi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, risorse che verranno destinate ai vari comuni italiani che si dovranno far trovare pronti con una progettazione adeguata. Noi dobbiamo raggiungere il traguardo a breve di 50 km di percorsi ciclabili che garantiscano la possibilità di percorrere la città in lungo e in largo in tutta la sua estensione in assoluta sicurezza, coniugando le esigenze di chi usa l'automobile con quelli che invece hanno fatto ormai una scelta chiara e netta a favore della mobilità sostenibile.